40 anni a servizio di malati, operatori e famiglie. Sabato 21 ottobre il Centro Camigliano di Formazione di Verona ha celebrato un compleanno importante con un convegno sull'attualità dell'assistenza ai malati. Il Centro è nato a seguito del Concilio Vaticano II su idea di padre Angelo Brusco che veniva da esperienze di vicinanza al malato in Nord America. Bene, noi abbiamo iniziato innanzitutto con dei corsi di relazione di aiuto perché ci siamo resi conto che tanta gente era impegnata nell'aiutare i malati, i poveri, degli ospedali, nelle case di riposo o anche in altri contesti, ma mancavano di quelle risorse umane e anche metodologiche che potessero rendere più efficace la loro azione apostolica. E allora abbiamo iniziato appunto corsi di relazioni di aiuto, di animazione di gruppo e poi un metodo che io avevo portato dall'America dell'educazione pastorale clinica, clinical pastoral education, che è un metodo che combina la teoria e la pratica con la supervisione di coloro che fanno parte di questo percorso formativo. E questo ha avuto veramente un successo perché sono passati veramente moltissimi gruppi in questo centro, non solo, ma noi siamo usciti anche a dare corsi negli ospedali, nelle case di cura, nelle case di riposo, negli istituti, anche poi abbiamo allargato anche lo spettro dei nostri programmi anche nelle scuole e nelle parrocchie. Il Centro Camigliano di Formazione è anche oggi molto attivo con corsi specializzati per operatori, famiglie, con accompagnamenti spirituali, pastorali e tanto altro. C'è un principio di continuità rispetto alla tradizione, all'esperienza che abbiamo guadagnato in questi anni, anche rispetto alle esigenze moderne della società nel 2023. Diciamo che il percorso dell'umanizzazione, nelle varie specifiche della pastorale della salute e anche di tutti i rapporti umani, ci orientano a formare le persone appunto nella relazione di aiuto e nel counseling, ma anche nelle specifiche problematiche di accompagnamento al morente e di gestione del lutto, con delle opportune formazioni nelle cure palliative, perché c'è bisogno di assistenza spirituale per i malati oncologici e per i malati con disabilità croniche che necessitano delle cure dal punto di vista appunto palliativo. Noi ci mettiamo a disposizione per questa formazione sia per la diocesi di Verona anche per tutte le altre diocesi, perché abbiamo anche formazione online oltre che in presenza e ci mettiamo anche a disposizione come centro di relazione di aiuto gratuito per accompagnare varie tipologie di sofferenza, di disagi, di difficoltà anche a livello relazionale, interfamiliare per esempio, oppure anche per orientare le persone a fare una scelta nei confronti del proprio futuro. Papa Francesco ci ricordava anche nel Sinodo dei Giovani come è importante accompagnare i giovani perché possano fare una scelta appropriata, consapevole e i percorsi di umanizzazione possono accompagnare a fare una scelta di questo tipo. C'è anche un settore importante di accompagnamento spirituale oltre che accompagnamento umano, ecco, negli esercizi spirituali nella vita ordinaria perché siamo convinti che la dimensione spirituale possa essere coltivata anche in tempi in cui uno non ha la possibilità specifica di riservarsi delle settimane di esercizi ma proprio nell'impegno quotidiano possa ritrovare il tempo per stare con il Signore. Anche il Vescovo Domenico ci ha chiesto di riflettere sul valore del silenzio almeno mezz'ora tutti i giorni ecco e quindi ci mettiamo a disposizione di questa richiesta che viene dal Vescovo Domenico e con le nostre potenzialità ci mettiamo a disposizione per questi accompagnamenti. È intervenuto anche padre Peyron Tramontin, superiore generale dei Camigliani, parlando del grande servizio fatto nel mondo dai Camigliani, 1200 religiosi presenti in 38 paesi e 14 centri di formazione pastorale ai malati rispondendo al Vangelo e al fondatore San Camillo dell'Ellis. Quello che è più importante è che abbiamo tante opere, tanti collaboratori e i centri di pastorale in realtà sono sorti per una necessità di formazione e formazione continua anche per i nostri collaboratori, tutti quelli che vogliono imparare un po' a esercitare il ministerio insieme ai malati e quindi questi centri di pastorale sparsi per il mondo hanno questa missione di formare e condividere il carisma camigliano. L'ispirazione sicuramente viene da Gesù che il suo ministero era predicare il Vangelo e curare i malati e San Camillo ha intuito questo molto bene, ha fatto della sua vita dopo la conversione un servizio agli infermi, ai sofferenti e ai poveri. Noi come continuazione di questo carisma viviamo oggi nel mondo non solo i religiosi ma anche tutti quelli che vogliono fare della sua vita un ministerio a servizio dei sofferenti e dei poveri e quindi continuiamo oggi la missione di Gesù seguendo le ormi di San Camillo dell'Ellis. Nella relazione del mattino si è parlato anche di bisogni emergenti in Italia rispetto a una pastorale della salute che cerca di adeguarsi ai tempi con la presenza del direttore dell'Ufficio Nazionale della Pastorale della Salute. Il pastorale della salute è quella azione della Chiesa a fianco dei sofferenti, dei malati che da sempre contraddistingue l'azione ecclesiale, pensiamo ai grandi santi fondatori della misericordia. Dopo l'esperienza Covid ci sono stati dei cambiamenti e ci sono dei cambiamenti in atto molto molto incidenti sulle realtà sanitarie. Di fatto la pastorale della salute si muove seguendo gli schemi sanitari cioè sa dove stanno i malati e i sofferenti e nei cambiamenti del sistema di servizio sanitario ci sono anche dei cambiamenti importanti perché sono diminuiti i giorni di leggenza e sempre più le persone stanno al domicilio. Quindi la pastorale della salute si sta riorganizzando, sta rileggendo i propri percorsi per stare sempre più vicina ai sofferenti e soprattutto allontanare lo spettro della solitudine. Come dice Papa Francesco se c'è una cosa peggiore della malattia stessa è vivere la malattia in solitudine e quindi noi cerchiamo di essere prossimi a queste persone. In questi cambiamenti rivediamo anche la nostra formazione, la nostra struttura organizzativa e cerchiamo di ricordare a tutta la comunità ecclesiale cioè a tutte le comunità cristiane che non è compito di alcuni stare vicini ai sofferenti ma è compito di tutti. Quando abbiamo ricevuto il mandato ama il prossimo tuo come te stesso possiamo onestamente declinarlo con prendi di cura di lui, cura il prossimo tuo come te stesso e questo è l'impegno che stiamo prendendo. La espressione di sintesi che utilizzo spesso riguardo alla sanità è persone che curano persone. Noi abbiamo due grandi obiettivi, creare le condizioni migliori possibili perché i curanti, medici, infermieri e professionisti sanitari possano svolgere bene il loro lavoro e creare le condizioni perché i malati e i sofferenti siano curati e si sentano curati. In questo ovviamente le risorse non saranno mai infinite, sono sempre determinate. Quello che possiamo fare nella gestione delle risorse è ottimizzare ogni passaggio di filiera in maniera tale che non ci siano sprechi, non ci siano passaggi strani all'interno della filiera sanitaria ma tutto quello che viene investito vada realmente a beneficio dei malati e secondo me ci sono ampi margini di miglioramento in tutta la filiera, possiamo risparmiare per fare meglio quello che stiamo facendo. Grazie a tutti!